Posti a sedere, tutti ovviamente distanziati, ed obbligo di green pass o tampone negativo per tutti gli spettatori. Queste le principali novità emerse nel corso del secondo tavolo sulla sicurezza, preseduto dal prefetto Maddalena De Luca ed interamente dedicato alla giostra del Saracino, prevista per domenica 5 settembre. Dunque in piazza grande saranno montate quattro tribunette nella parte riservata ai posti in piedi. Questo consentirà di arrivare sino a 1.500 spettatori circa. Per quanto riguarda poi l'aspetto della sicurezza, si potrà assistere alla 140esima edizione della manifestazione solamente indossando la mascherina e per accedere alla piazza si dovrà presentare il green pass o un tampone negativo. Restano invece invariate le disposizioni adottate nella prima riunione. Il corteo storico ci sarà e gli aretini potranno assistere alla sfilata con la chiusura del tratto di Corso Italia. I quartieri poi stanno predisponendo le serate della settimana del quartierista nel penno rispetto di tutte le regole imposte dalla normativa anti-covid. Domani infine parte anche la vaccinazione per i figuranti della giostra con gli elenchi denominativi che i quartieri hanno fornito al comune. La seconda dose sarà somministrata il prossimo 21 luglio. La normativa in vigore infatti prevede che anche figuranti ed addetti al lavoro debbano essere in possesso di green pass o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti alla giostra.